Vi faccio vedere come va iOS 16 su iPad di sesta generazione 2018. L'iPad ha tre anni e mezzo di vita e quattro anni quando è uscito. È uscito con la versione 11.3. Come va, le specifiche, come va iOS 16, che cosa è cambiato rispetto a prima, i punteggi di prestazione tra prima e dopo. Le specifiche tecniche di questo iPad dispone di uno schermo di 9,7 pollici in IPS LCD con 264 dpi. Ho scelto io, tempo fa, il modello da 128 giga. Dispone anche della rete 4G LTE. Ha un processore di Apple A10 Fusion da 16 nanometri, quadrucore 2,3 gigahertz e una GPU PowerVR serie 7XT Plus da 6 core. Fotocamera posteriore 8 megapixel, davanti 1,2 megapixel, registra video in Full HD e HDR stereo posteriore, mentre davanti solamente 720p, quindi soltanto HD. Dispone del Wi-Fi 5 Dual Band, BGN AC, ha pure l'HotSpot Bluetooth 4.2, ha il GPS, come vi dicevo, Wi-Fi più cellular, quindi Wi-Fi e 4G. Allora vi faccio vedere le informazioni sull'aggiornamento di iOS 16. Allora. Allora. Come va iOS 16 su questo iPad di sesta generazione? Partiamo con l'impronta digitale che è sempre fulminio, dopo 4 anni di vita. Cambia tra la versione precedente e la nuova versione, allora la schermata home è sempre uguale. Già dalla versione 15 c'erano i widget spostabili, nuovi widget, ancora con la versione 16 non ci sono stati nuovi widget, le icone come le applicazioni e queste cose qua sono sempre rimaste uguali. Cosa hanno messo di nuovo? Soltanto l'app medio. Praticamente questa è l'app medio che finalmente è arrivata su iPad, che tempo prima non c'era, era solamente con il widget. Con iOS 15 invece hanno aggiunto, con la precedente versione, l'app traduci, l'app di lente di grandimento, il design dell'orologio, che diventa in questo modo e questo a me piace, però non ci sono le schermate di blocco intercambiabili come succede su iPhone. Vi faccio vedere bene, praticamente se io tengo premuto non fa nulla. Se vado io nelle impostazioni, se vado in sfondo, posso io cambiare sfondo, però sempre con il vecchio metodo. Come vedete la fluidità è ottima, vi voglio farvi vedere i punteggi tra prima e dopo e adesso come va facendo il test della CPU e anche della CPU. Adesso vi faccio vedere come va sulle prestazioni, fluidità, autonomia e poi in generale. Allora, le prestazioni del dispositivo, cioè nella schermata Home, sono veloci. Andiamo ad aprire molte applicazioni, tra cui andiamo su, allora, calendario, più o meno è veloce, orologio, l'app traduci, meteo, chrome, andiamo su Safari, andiamo su App Store, qui ci vuole un pochino a caricare, poi andiamo su YouTube, e diciamo che è abbastanza fluido, e veloce, andiamo a vedere, ad esempio, l'ultima, più o meno, e veloce. Andiamo ad aprire, invece, un paio di giochi. Allora, apriamo Subway Surf, ci vuole un po' di tempo, anche perché l'iPad ha quel tipo di processore che è uguale ad iPhone 7. vedete, ci sono un paio di laghettini, che devo segnalare, però per il resto è fluido e veloce, ci sono dei lag di sistema su certe, su certe cose, vedete, è un pochettino, non tanto al massimo, ma non solo questo qua gioco, perché questo è un pochettino, è abbastanza ottimizzato, se vedete, un pochettino, ha qualche lag, però per il resto è veloce, quindi come avete visto, nei giochi ci sono dei lag, quindi lag più frequentemente, a volte ci sono anche dei piccoli blocchi, cosa però di qualche secondo, per cui danno anche fastidio mentre si gioca, se io vado su Safari e vado sul sito, vedete la tastiera, quindi se io vado sul sito Moni, non è proprio, cioè è fluido, però, capisco le pubblicità, però, se io prendo, leviamoci la pubblicità, e prendo questa, cioè è veloce, però, ci sono dei lag, quindi, posso farvi vedere il sito Day, come gira, più o meno, ci dà bene, col Pencil, c'è una maggiore, cioè è rimasto uguale, come vedete, la penna su iPad di sesta generazione è buona, vedete, certo, se andate veloce, vedete, c'è un ritardo di un bel po'. Adesso vi faccio vedere tutte le versioni che io ho installato su questo iPad, e vi posso dire quali sono state le versioni migliori e quali no. Allora, questo, quindi, è il PDF, iOS 12, 12.1.1, versione migliore, 12.1.3 idem, 12.1.4 idem, la 12.2 versione migliore, 12.3 non l'ho installata, per vari motivi, 12.3.1 versione migliore, poi la 12.4 versione migliore, 12.4.1 idem, che poi era un aggiornamento di sicurezza. Upgrade alla versione 13, anche qua non è nato con la versione 13, ma la versione 13.1, con 1.86 giga, e oltre ad avere queste novità, non ho notato particolari differenze, quindi versione neutra, vuol dire né migliore né peggiore. 13.1.1 no, 13.1.2 sì, che era un aggiornamento di sicurezza, ma comunque l'ha migliorato, .3 no, perché .3 io l'ho installato, ma era una versione peggiore, mi ha peggiorato, quindi l'iPad. 13.2 sì, versione migliore, 13.2.2 non l'ho installato, 2.3 era un aggiornamento di sicurezza, la 13.3 era buona, però niente di particolare, nemmeno 3.1, 13.4 versione migliore, 13.4 che era sempre un aggiornamento di sicurezza, niente di che, 13.5 non l'ho installato, 13.5.1 l'ha peggiorato, 13.6 peggio ancora, 13.6.1 niente di che, quindi rimane con le prestazioni peggiorate, 13.7 non l'ho installato a favore di iOS 14, che è stata la versione migliore, poi iOS 14.0.1 è stato l'anno ancora migliorato, 4.1 migliore, 14.2, quindi versione migliore qui, hanno caricato nuovi miglioramenti e nuove cose nel sistema, 14.3, quindi versione migliore, 14.4 nulla di che, ma hanno ovviamente migliorato e aggiunto altre cose, 14.4.1 niente di che, 14.4.2 versione migliore, anche che era un aggiornamento di sicurezza, 14.5 non l'ho installato, ma a favore della 5.1, che era migliore, 14.6 niente di che, 14.7 idem, ma hanno aggiunto nuove cose e nuovi miglioramenti, un aggiornamento di sicurezza, ma nulla di che, 14.8 non l'ho installato, a favore di iOS 15, che ci sono nuove funzionalità e nuove e miglioramenti vari, ma niente di che, perché è rimasto invariato con le prestazioni fluidite e tutto. 15.0.1 me l'ha peggiorato, invece la .02 è stata veramente una buona versione. 15.1 l'ha migliorato ancora di più, 15.2 idem, con nuove funzioni e miglioramenti, mentre 15.2.1 idem, che era un aggiornamento di sicurezza grosso, 15.3 nulla di che, 15.3.1 nulla di che, e invece la 15.4 l'ha migliorato abbastanza bene, con nuove. ovviamente c'è stato il controllo universale tra iPad e Mac, una bellissima funzionalità. 15.4.1 versione peggiore, me l'ha peggiorato, 15.5 niente di che, 15.6 me l'ha migliorato, è stata veramente una buona versione, questo è un aggiornamento di sicurezza, 15.7 c'è poco, c'è poco e nulla, e in favore quindi, poi di iOS 16.1, che è l'ultima versione del sistema operativo. Non sappiamo quindi se è la versione ultima o penultima, aspetto infatti la versione 16.2, 16.3, che sicuramente magari un po' qualcosa riesce a migliorare. In conclusione, questa nuova versione del sistema operativo iOS 16 è buona, cioè ci sono, c'è un nuovo sfondo che è questo qua, l'orologio che è fatto in questo modo, e ovviamente questo qui non cambia, è sempre uguale, sembra poco più fluido, però ci sono delle, certe cose l'ha sistemata, e certe cose un po' l'ha peggiorata, per esempio l'autonomia è leggermente più peggiorata, il caricamento di certe applicazioni è poco più lento, ci sono dei lag, ci sono ancora dei bug da sistemare, e soprattutto ci vuole ancora tanta altra stabilità di sistema da sistemare. sperando che con la versione 16.2, 16.3 verranno quindi sistemate questo tipo di bug software che ci sono nel sistema. iOS 16 non è uscito 16.0, ma direttamente 16.1, perché infatti c'era un piccolo problema con però lo stage manager per supporto di iPad, perché ovviamente all'inizio si era considerato di farlo solamente con i chip M1, ma poi hanno pensato di farlo anche con gli iPad del 2020, quindi gli iPad Pro del 2020, e quindi hanno aspettato quindi fino alla versione 16.1, che ci sono quindi poche cose aggiuntive rispetto alla 16.0, quindi in conclusione che il tablet gira bene più o meno, per visualizzazione di contenuti, social, internet, meteo, musica, film, video, queste cose vanno bene, gira bene e non ho notato peggioramenti di sistema. Mentre se dovete montare qualche video oppure giocare, magari ci sono questi piccoli lag che danno fastidio. Che dire, vi ho fatto vedere il punteggio, i punteggi di Gigi Bench, quindi non superano cosa di pochissimo di punteggio, però va bene. L'unica altra cosa che vi devo dire è il surriscaldamento, ho notato infatti un surriscaldamento di più rispetto alla versione 15. Prestazioni, fluidità e tutto, più o meno c'è, però è da migliorare con le versioni successive. Non si sa se è il penultimo o l'ultimo aggiornamento software di questo iPad, rimane il fatto che iPad sono, secondo me, i migliori tablet in circolazione. Questo è bellissimo, ok? Rimane sempre uguale, poi le differenze sono poche e nulle, e sono cambiate di più nella versione 14-15, sono cambiate molte cose, nella versione 16 qualcosina, ma su questo iPad, perché negli iPad Pro e Air di nuove generazioni, hanno messo più funzionalità, che magari hanno, c'è poco più senso. Io vi saluto, grazie per aver visto questo video, un po' come va iOS 16 su questo iPad di sesta generazione, io non farei fin quando è aggiornato all'ultima versione, difficilmente cambio iPad. Mettete un like se vi è piaciuto, se avete dubbi e altro, potete commentare qui sotto ai commenti del video.